Il Dona Cibo è nato da pochi anni in Padova, una nostra insegnante amica voleva proprio farlo a scuola e ci ha fissato questo evento che abbiamo iniziato quasi per caso, in realtà è stata una bellissima esperienza perché abbiamo potuto raccontare la bellezza che abbiamo incontrato e le cose belle che facciamo nell'aiutare le persone. Iniziamo con poche scuole, alcuni al Severi, quest'anno invece siamo arrivati a 18 scuole in Padova e riusciamo ad incontrare quasi molti alunni, non tutte le classi, ci piace chiedere ai ragazzi e agli alunni di raccogliere del prodotto alimentare per poter aiutare le famiglie che già noi assistiamo ma nel farlo ci piace proprio poterli incontrare raccontando cosa ci muove, perché facciamo tutto questo. La formica, un senno breve sulla formica, ha uno staff di persone che si aggira sulle 20 persone che si occupano di tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi, burocratici. Facciamo tutto questo nel tempo libero, nel senso che siamo persone normali che lavorano e nel tempo libero, usano del proprio tempo libero per fare questo. Inoltre ci sono circa 100 volontari che vanno a domicilio alle famiglie che individuiamo mano a mano, alcune vengono segnalate da conoscenti, altre vengono segnalate dal comune o da altre realtà associative che sanno ci sono delle necessità.